Due anni, direi, posso dire pazzeschi, ma nel senso di anni stupendi. Stupendi perché il Papa ci ha aiutato a cambiare mentalità, ma anzitutto questi due anni ci sembra che siano passati millenni per come eravamo, nel momento dell'elezione del Papa, guardo un po' dal punto di vista mediatico, che eravamo sotto attacco continuo. Il povero Benedetto ha sofferto tanto in quel periodo. Poi è venuto Papa Francesco e vedo che tutti guardano a Papa Francesco con speranza, con fiducia, e dicevo, ecco, stupendi perché ci ha aiutato a vedere in maniera diversa la Chiesa di quello che desidera lui, la Chiesa che si deve liberare da tante incrostazioni storiche ed essere quella che deve essere per natura, cioè il segno della presenza di Dio tra gli uomini. Deve essere trasparente nella persona, nelle persone e nel funzionamento delle istituzioni. Rischiavamo prima che il protocollo quasi avesse la prevalenza sul Vangelo, invece adesso dobbiamo fare in modo che anche nel nostro scrivere siamo più evangelici che rispettosi del bon ton o dell'Evangelo. Cosa la colpisce in modo particolare del carisma di Papa Francesco? Ma quello che mi colpisce di Papa Francesco è il suo coraggio, la sua determinazione. Lui non recita, lui è se stesso e nell'essere se stesso, come dicevo prima, vuole davvero vivere il Vangelo. Ecco, questa è la sua determinazione, questa è la sua passione perché la gente veda in lui un uomo del Vangelo. Il Papa delle periferie ha toccato, dicevamo, il cuore di tanti con gesti semplici e parole comprensibili, ha ridato speranza a tante persone. Di cosa ha bisogno oggi l'uomo concretamente? Mi pare la risposta sia in quello che ci ha annunciato venerdì, l'anno della misericordia. L'uomo di oggi ha bisogno di sentire la misericordia di Dio. Io per me vedo tanta disperazione intorno. La gente che ha voluto fare l'esperienza della Torre di Babele, vuole andare oltre le leggi di Dio, trasgressivo, non ha il senso del peccato ma nello stesso tempo fa il peccato e poi si accorge di essere niente, soffre le conseguenze del peccato, il vuoto, mancanza di senso della vita e in quelli più sensibili, in quelli più sensibili, in tutti, c'è il desiderio di una vita nuova. Ecco, mi pare che è stato geniale il Papa nel proporci l'anno, il giubileo della misericordia perché l'uomo deve scoprire come dopo il fallimento, dopo il tormento del peccato, c'è qualcuno che è Dio, ha fiducia ancora in te e ha misericordia di te. Vuole il Papa che abbiamo a sperimentare la misericordia di Dio. Come suo stretto collaboratore può raccontarci un episodio inedito o qualcosa che l'accompagnerà per la vita? Episodi ce ne sarebbero tanti ma il mio ruolo non mi permette di dirgli proprio episodi inediti. Però vorrei dire una cosa, noi non capiremo Papa Francesco se non pensiamo a quelle due ore del mattino che passa in preghiera e tutte le sue ispirazioni, le sue azioni si spiegano solo in quei momenti lì. Mi colpisce che tante volte quando sta per prendere una decisione oppure ha già preso una decisione o vuole mettere un giudizio su una persona, mi dice no, ci devo pregare su e molte volte ritorna indietro pure perché ecco nella preghiera ha scoperto, ha capito che l'atteggiamento, la decisione doveva essere differente. Penso che per me questo è l'insegnamento più bello. Ecco, il vicario di Cristo si sente in comunione con Cristo e solo ha la luce di quanto lui gli ispira, desidera agire. Per me è un insegnamento perché come prete, come vescovo, ma come cristiano dobbiamo camminare proprio in questo stile di vita, la preghiera che è fonte di luce.